Nuovo episodio della FL al massimo, parliamo di BTP, risparmio e oro la patria. Di recente l'amministratore delegato di Intesa San Paolo è intervenuto per ribadire quanto sia importante che il risparmio dei cittadini italiani sia impiegato in titoli di Stato. Questa volta il riferimento è all'indipendenza nei confronti della Banca Centrale e non possiamo fare a meno di rilevare che nei primi giorni di novembre ci sarà un nuovo collocamento dei BTP futura riservato alle famiglie. Nello stesso intervento il banchiere sottolinea anche come sia fondamentale conseguire una crescita economica maggiore di quella registrata nell'ultimo ventennio. Più volte abbiamo parlato in questo podcast degli inditi più o meno politici a indirizzare il risparmio delle famiglie e trovandoci anche nel mese dell'educazione finanziaria direi che è opportuno fare qualche riflessione. L'idea che il risparmio degli italiani sostenga il debito della Repubblica può sembrare patriottica e fino anche ragionevole, ma nasconde diverse insidie. Chiariamo bene che la vera libertà e indipendenza dagli interventi della Banca Centrale che ci corre in soccorso può essere raggiunta solo manifestando prospettive di crescita solide ed elevate e una finanza pubblica sostenibile. Il contributo da parte dei cittadini può al più essere temporaneo e concorrente con altri, ma se pensiamo di trattare i risparmiatori italiani come un parco buoi per collocare i titoli che il mercato non vuole, siamo sulla strada sbagliata. Ciascun cittadino contribuisce al meglio al futuro del paese se gestisce in modo equilibrato i propri risparmi, diversificando a livello internazionale e riservando al mercato obbligazionario domestico solo una quota coerente con un asset allocation individuale e equilibrata. Parafrasando il celebre passaggio di Adam Smith sull'abilità del macellaio, potremmo dire che per conseguire la salvezza finanziaria del paese non dobbiamo far ricorso all'altruismo del cittadino patriottico, ma confidare sulla razionale ed efficiente allocazione dei propri risparmi realizzata da risparmiatori dotati delle giuste competenze. Un saluto dalla FL Al Massimo di e con Massimo Famularo ogni settimana per la Fondazione Luigi 9. Arrivederci!